fine della corsa per la banda dei ladri che giravano con la panda arraziavano soprattutto le seconde case sono stati presi è stata fermata dai carabinieri una fiat panda grigia che alcune vittime dei furti avevano segnalato a bordo è stata trovata parte del bottino ma non è escluso che la banda usasse anche altre auto nella fotografia di pagina 9 del gazzettino di belluno si vede in grande grandissimo la panda è stata oscurata la targa la didascalia dice così la panda grigia usata dai ladri per battere il territorio bellunese individuare le case da svaleggiare e poi depositare il bottino dei colpi cominciamo così questa rassegna stampa di radio pepe in blu di oggi mercoledì 29 marzo luigi guglielmi al microfono come sempre noi dell'amico a condurre questa così questa occhiata che diamo insieme ai giornali locali ai quotidiani bellunesi gazzettino corriere delle alpi stop ai raid di furti tra alto gordino e valdizoldo le forze dell'ordine ieri hanno infatti fermato gli autori delle numerose ruberie registrate negli scorsi giorni tra colle santa lucia selva di cadore e valdizoldo ma anche ad allegrò capietro e santomaso dopo una veloce ma attenta indagine nel territorio di valdizoldo i carabinieri sono riusciti a bloccare la fiat panda grigia su cui si muovevano i malviventi a bordo avevano parte della refurtiva e nelle prossime ore si saprà a quali provvedimenti giudiziari saranno sottoposti i malviventi che non è da escludere potrebbero far parte di una banda con più elementi che sia servita non di un solo veicolo per le proprie scorribande risale alla settimana scorsa riepiloga così il gazzettino nell'articolo che è a firma di raffaella gabrielli ciao raffaella risale la settimana scorsa l'avvio delle segnalazioni all'arma di effrazioni e sparizioni in più case dell'alto accordino della valdizoldo ma anche di veicoli sospetti avvistati in situazioni inusuali soprattutto nelle frazioni più piccole e marginali rispetto ai centri abitati a colle santa lucia ad esempio dove sono sparite biciclette pneumatici attrezzi da lavoro anche un cumulo di rame evidentemente appetibile per essere venduto a selva di cadore tra le varie ruberie si sono registrate quelle in alcune seconde case momentaneamente disabitate in una di queste ad esempio sono stati sottratti computer televisioni e anche l'antenna parabola per la connessione internet installata su una parete esterna insomma tutto ciò che potesse avere un minimo di valore da riciclare in un mercato del dell'usato capite che la situazione era estremamente fastidiosa magari non furti per grandissimi valori però quest'idea delle seconde case lasciate lì insicure specialmente nelle località della nostra della nostra provincia non diventate un oggetto appetibile ma le segnalazioni le telecamere sicurezza eccetera hanno fatto sì che si che si permettesse agli inquirenti ai carabinieri in questo caso di arrivare all'identificazione dell'auto e anche alle azioni giudiziarie insomma nei confronti dei dei titolari quindi vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni positiva questa notizia positiva anche quella che leggiamo nel trafiletto qui a fianco si passa dall'alto a gordino e zoldo al comelico superiore cai 600 soci e di questi 600 soci 124 sono giovani nella sezione quindi del club alpino italiano del comelico il ricambio è assicurato ora sappiamo tante volte abbiamo detto della difficoltà per le associazioni a trovare volontari per il ricambio generazionale se non altro il cai a quanto pare gode di ottima salute sull'amico di questa settimana leggerete il resoconto dell'assemblea del cai di agordo dove anche lì le iscrizioni sono in continuo aumento degli oltre 600 soci della sezione cai del comelico 124 sono giovani un dato che evidenzia l'importanza del sodalizio che ha in carico ben 350 chilometri di sentieri nei cinque comuni del comelico a dettagliare numeri ed attività è stato il presidente zan luigi topram d'agata che saluto anche da qui nella recente assemblea del museo al gudney ha riassunto quanto realizzato nel 2022 e le iniziative sono state veramente tante poi è stato annunciato quali sono i programmi per l'anno in corso firma qui ivonne toscani è il terzo saluto che devo dare oggi ma ivonne collabora anche con noi dell'amico del popolo quindi permettetevi non posso non salutarla allora prima pagina del gazzettino di belluno il titolone è ancora sul sui timori che giustamente serpeggiano in provincia di belluno per quanto riguarda il futuro delle nostre dei nostri reparti di neurologia sull'amico del popolo di questa settimana che oggi vi arriva nelle case in forma digitale e domani in forma cartacea trovate la trasposizione in versione scritta dell'intervista che ho fatto io al primario di radiologia che spiega la necessità di intervenire in tempi urgenti con l'ictus e che l'intervista che trovate sui social andate a vedere su facebook youtube la trovate e che spiega che la provincia di belluno ha i numeri l'ospedale di belluno per fare un salto di qualità per riuscire ad eseguire anche le trombectomie quindi insomma sarebbe veramente assurdo adesso chiudere belluno chiudere le neurologie che dopo sarebbe difficile poi riaprire no allora in migliaia salvate le neurologie il titolone perché da dove vengono queste migliaia perché è stata lanciata una petizione ed è si è rivelata un successo una petizione online la potete cercare potete sottoscriverla è stata lanciata da una donna malata di sclerosi multipla in due giorni due giorni sono state superate le 4000 firme anche la sindaca di feltre chiede che restino aperti entrambi i reparti ci rimetterebbe la qualità del servizio sembra proprio che questa debba essere la strada non accentrare tutto su belluno o peggio chiudere belluno farlo diventare solo una struttura ambulatoriale ma potenziare belluno e mantenere sicuramente anche feltre almeno a livello attuale al grido di devono sopravvivere entrambe le neurologie la petizione lanciata lunedì da gloria pochiesa mariam di padola di comelico superiore è diventata virale sui social ha superato in poche ore le 4000 firme chiediamo alla regione del veneto di garantire ai pazienti neurologici cure adeguate dice nella raccolta firme sulla piattaforma change.org è lì che potete trovarla amici che ci ascoltate ci guardate e intanto il primo cittadino la prima cittadina il gazzettino si ostina a mantenere il maschile anche sui femminili che possono essere messe al femminile la prima cittadina di feltre viviana fusaro rende noto il documento dei sindaci ci si attende che lo sforzo dell'azienda ospedaliera sia quello di ottenere l'immediato ripristino di risorse umane adeguate con obiettivo di conservare l'esistente conservare l'esistente a belluno ripeto l'esistente è una struttura già in grado di fare qui anche quello che adesso con perdita di tempo viene svolto a treviso dove vengono portati i bellunesi che sono candidabili a un intervento di trombectomia contro l'ictus gli infermieri gli aumenti questi sono solo spot pubblicitari aumenti in busta paga per il momento siamo solo agli spot numero di infermieri di os al di sotto del fabbisogno gli annunciati i numeri del governo per superare la crisi dei reparti d'urgenza non convincono andrea fiocco della cgl funzione pubblica questo è un problema fenomenale l'altro giorno leggevamo sul gazzettino quelle frasi molto discutibili di un medico di base del cadore che riteneva ridicolo aveva usato questa questa parola lo stipendio di accesso per un neurologo al primo impiego da 2.500 euro al mese l'aveva giudicato ridicolo sarebbe da ricordare a chi ritiene ridicole queste cifre sarebbe da dirgli vai a vedere quanto prendono gli infermieri quanto prendono gli altri impiegati nella nella sanità ecco troppo poco prendono troppo poco decisamente rispetto alle mansioni rispetto al carico di lavoro rispetto anche alla responsabilità c'è il titolo in prima sulla panda bloccata e poi cortina la parlata ladina entra nella scuola elementare ci si riferisce sempre a cortina con una foto dell'intramontabile teo teocoli non so è sempre uguale questo 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 incredibile personaggio da palcoscenico il teocoli show a cortina mai indossato gli sci l'appuntamento tutto pronto per lo spettacolo che sarà venerdì sera all'alexander girardi all il comico ripercorrerà in musica la sua carriera ricordando tra l'altro i tempi delle sue vacanze in ampezzo il suo rifiuto di infilarsi un paio di sci la classifica bellunese tra i giovani innovatori di forbes allora segnalata dunque si tratta di georgia ferrais che tra i 100 innovatori d'italia under 30 nella categoria retail and e-commerce dirlo il magazine più famoso al mondo per classifiche della leadership imprenditoriale l'imprenditrice di mussoi che ha creato l'hat dell'abel torno ogni volta che posso per ricaricarmi allora feltre in tre anni 28 milioni per le opere pubbliche in taglio basso e fa sempre tristezza è stata investita un'altra lupa segno però che ce ne sono veramente tanti è stata investita e uccisa di notte da un'auto dove a lentiai qui c'è la fotografia dell'animale morto una lupa è stata investita la scorsa notte nella frazione di ronchena a lentiai di borgo valbelluna il cadavere dell'animale è stato rinvenuto nella mattinata di ieri da un passante che ha segnalato il ritrovamento agli organi competenti difficile quindi al momento ricostruire come siano andati i fatti ma è facile ipotizzare che un'auto mentre scendeva da stabie in direzione ronchena a poche centinaia di metri dalle ultime abitazioni della frazione abbia impattato contro l'animale dopo la segnalazione di un passante sul posto si è recata la polizia provinciale che ha recuperato l'animale che è stato portato all'istituto zoo profilattico belluno il marciapiede sparisce e riappare scintille tra massaro e roccone così vi ho letto i titoli principali della prima del gazzettino di belluno gazzettino che sul nazionale si occupa di tutt'altro appalti premium made in italy veneto 2000 irregolari nelle aziende che lavorano per fin cantieri la fotografia inquietante di notte a rovigo c'è stato un omicidio il figlio piccolo chiama il 113 lei la mamma ha un proiettile in testa è stata trovata in fin di vita non un omicidio ho detto male scusate è stata trovata in fin di vita mistero sull'arma vediamo auguri ovviamente questa 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 donna insomma si sta indagando per cercare di capire meglio che cosa è successo corriere delle alpi prima pagina vecchie pratiche edilizie in arrivo 400 condoni parliamo di feltre il titolo recita così poi nella parte del del sommario i fascicoli erano stati aperti negli ultimi 40 anni dai cittadini e mai chiusi dagli uffici comunali la questione esplosa con il super bonus il lavoro sarà affidato a un professionista 400 condoni in arrivo su feltre occhialeria bellissima notizia vola marcolin vendite nette a 547 milioni di euro volano le vendite 2022 della marcolin l'azienda ha registrato vendite nette per 547 avevamo detto virgola 4 per la precisione milioni di euro di euro baristi di belluno esplode la rabbia per i plateatici più cari sapete che con il covid è stato concesso sono state fatte delle deroghe per concedere ai bar di mettere più tavolini fuori all'aperto per evitare che la gente stesse chiuso per il contagio adesso il covid è in via di risoluzione la pandemia e il comune ha deciso di tornare a far pagare anzi di far pagare un bel po' più di 2 euro e mezzo a metro quadrato al giorno i plateatici cioè i posti fuori e i baristi sono un tantino arrabbiati monta il malumore tra i gestori dei pubblici esercizi del centro di belluno dopo la decisione dell'amministrazione comunale di tornare al regime pre covid per quel che riguarda i plateatici che a belluno sono tantissimi a volte un po' fanno un po' disordine ma a volte sono anche belli comunque offrono la possibilità di stare fuori all'aperto in una città che è molto bella la nostra belluna il soccorso alpino avverte ancora tanti pericoli per chi va in montagna beh l'altro giorno sono morti due veneti in valle urina travolti da una valanga scesa lungo un canalino dove loro stavano camminando un canalino che era praticamente quasi senza neve però la valanga è venuta giù lo stesso si è portato giù sassi li ha presi in pieno li ha uccisi sanità raccolta firme per salvare le neurologie sono già 4.000 anche in prima sul corriere il titolo sulla cosa che di cui abbiamo letto prima il gazzettino rocca pietro le famiglie diventi bambini lasciateci l'elementare una lettera al provveditore perché venga tenuta aperta la scuola elementare di rocca pietro e l'hanno firmata 20 famiglie feltre sarà invasione di motociclisti alla benedizione di domenica è saltato un accento previste più di 5.000 moto che riempiranno domenica feltre in occasione della benedizione del motociclista anche qui teo teocoli in prima pagina ma la foto lo diciamo volentieri è per dinka per leonardo dinka atleta dello chic club trichiana giovane perché trionfa al pinocchio al circuito ed è su lo slalom alla betone la stagione di leonardo dinka chic club trichiana si impreziosisce con un'altra gemma l'oro di ieri nello slalom ragazzi del pinocchio che va ad aggiungersi a quelli dei campionati italiani e dell'alpe cimbra nelle allieve bronzo alla cortinese giulia alverà diciamo a lampezzana giulia alverà quindi bravissimi questi ragazzi dello sci e futuri atleti del futuro noi glielo auguriamo con tutto il cuore con questo ci fermiamo qui un cordiale saluto buona giornata buon mercoledì 29 in marzo da luigi guglielmi ciao